Così se no, eh? Dai, dai, tiriamolo giù Tiriamolo giù, dai che lo buttiamo giù un petto Per il tronco lì Vai Sergio che lo buttiamo via Sto tronco No, aspetta, Simo Aspetta Eh, ma ti ritrovi male là, fuori Lo buttiamo giù per così Lo buttiamo qua, quest'anno Dai un altro polpo Aspetta, aspetta No, vai di là No, se no rompi i coglioni Aspetta, già cado normalmente Se ce lì anche i coglioni in mezzo Allora 2 minuti e togliamo il disturbo grazie 3 minuti e togliamo il disturbo 72 anni, sordo muto, 72 anni quello col Fanti, lui è sordo muto siamo molto variegati piedi sempre di là, non dalla valle loro sono sgamati, possono andare loro sono la gay quindi piedi la scuola? no 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 siamo